Nessun gioco erotico finito male. Ashley Olsen, la 35enne statunitense trovata morta nel suo appartamento in Oltrarno a Firenze, sarebbe stata uccisa dall'uomo con il quale aveva appena finito di fare sesso. Lui, Chaik Dioti Dianè, senegalese di 27 anni in Italia da irregolare da pochi mesi, è stato fermato la scorsa notte dagli agenti della polizia di Firenze che l'hanno torchiato fino alle 4 del mattino ottenendo una parziale confessione. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i due si sono incontrati in un locale notturno di Firenze giovedì notte e dopo una serata passata insieme si sono trasferiti a casa di lei in via Santa Monica. Qui avrebbero fatto sesso dopodiché la ragazza avrebbe chiesto bruscamente all'uomo di andarsene. Dioti ha raccontato agli agenti di aver risposto non sono un cane e di aver spinto la donna che è caduta a terra battendo la testa, ricostruzione che ha convinto solo a metà gli inquirenti. L'autopsia ha confermato che la ragazza è morta per strangolamento ma purtroppo ha anche rivelato che aveva delle altre lesioni che da sole sarebbero state sufficienti a cagionarne la morte, cioè due fratture al cranio. Saranno le indagini a fare chiarezza sull'esatta dinamica dei fatti mentre per quanto riguarda il movente che avrebbe spinto l'uomo a reagire con violenza il procuratore Giuseppe Creazzo si è limitato a commentare. Abbiamo elementi per pensare che avessero assunto sostanze che non li rendevano molto lucidi. A mettere gli investigatori sulle tracce di Dio sono stati tre elementi, il racconto di alcuni testimoni, le immagini delle telecamere piazzate nei pressi della casa di Ashley che hanno ripreso i due insieme e il fatto che dopo l'omicidio Dio abbia preso il cellulare della ragazza sostituendola sì con una sua. Le prove decisive sono venute solo ieri perché l'analisi sui reperti biologici riguardanti un profilattico o una cicca di sigarette trovate nell'immediatezza dei fatti quel giorno stesso naturalmente repertati dalla polizia scientifica dentro il water del bagno della casa. Hanno dato univoco risultato secondo il riferto del laboratorio di appartenenza allo stesso soggetto. Che è stato trasferito al carcere di Sollicciano. Caso praticamente chiuso archiviato con la confessione semi a missione dell'omicidio della giovane americana Ashley Olsen da parte del senegalese Sheikh Tedian Dio e con una ricostruzione dei fatti che apparentemente sta in piede e sposa la tesi della colluttazione dell'omicidio non premeditato, la domanda che rimane è una soltanto. Chi è? Sheikh Tedian Dio è un ragazzo di 27 anni senegalese arrivato in Italia da pochi mesi clandestinamente e quindi non in possesso del permesso di soggiorno. Dio ha scelto Firenze perché ad attenderlo c'erano i due fratelli, entrambi PR, di cui il maggiore molto noto soprattutto nelle discoteche più in voga della città dove lavorava anche per i gruppi di studenti americani che frequentano le numerose scuole del centro. Sheikh Tedian insomma arriva in Italia e si stabilisce nell'appartamento del fratello in via del Castagno. Per sopravvivere consegna volantine e fa pubblicità alle discoteche per le vie del centro. Chi frequenta i locali dice di averlo visto e qualcuno lo collega anche a un possibile consumo di droga. Se questo poi sia il removente o il mezzo per l'eccitazione che quella notte è sfociata nella reazione violenta contro la ragazza, soltanto le forze dell'ordine potranno chiarirlo. Ciò che Sheikh ha dichiarato è che dopo il rapporto sessuale la ragazza gli avrebbe ordinato di andarsene perché stava per arrivare il fidanzato. Lui offeso le avrebbe urlato di non trattarlo come un cane e poi l'avrebbe spinta a terra dove la ragazza avrebbe vattuto la testa. A quel punto lui l'avrebbe strangolata ma su questo ancora non c'è certezza. Ciò che invece è chiaro è che il ragazzo era incensurato e sconosciuto alle forze dell'ordine, almeno fino ad oggi. Tre nuove casi di meningite in Toscana. Dopo la notizia della 22enne studentessa di Grosseto sale dunque a 5 il numero di persone colpite nella nostra regione dal 1 gennaio 2016. Se i casi dell'uomo residente a Chiesina e della donna ricoverata da Arezzo sembrano meno gravi, trattandosi probabilmente dei ceppi VY, preoccupante è invece la situazione della 37enne di Prato, ricoverata all'ospedale Santo Stefano in seguito agli accertamenti clinici effettuati presso Solmayer che hanno confermato la patologia meningococco di tipo C. La donna lavora in una rosticceria di Prato, per questo il Dipartimento di Prevenzione della ASL ha già avviato le operazioni per la profilassi, contattando ciascuna delle persone che sono venute a contatto con la donna negli ultimi giorni. Per contrastare la diffusione del meningococco di tipo C, la regione toscana ha messo in atto un'importante campagna di prevenzione che proseguirà fino al mese di giugno 2016, offrendo la vaccinazione gratuita a tutti coloro che hanno un'età tra gli 11 e 45 anni.